Buongiorno e benvenuti a Occhio ai Giornali, la rassegna stampa di Fano TV. Sono le 7 da qualche minuto in questo lunedì 11 marzo 2024. Vediamo subito il santo di oggi, grazie all'ausilio della grafica. Oggi si festeggia San Costantino, il sole è sorto alle 6.26, tramonterà invece alle 18.08. Appunto, San Costantino in questo lunedì 11 marzo 2024. La chiesa greca, ma non quella latina, riserva un posto importante tra i suoi santi al più celebre Costantino della storia, cioè all'imperatore romano che riconobbe ai cristiani la libertà di culto e che favorì in molti modi, anche con la sua conversione, la diffusione e l'affermazione del cristianesimo nel mondo romano. Si pensa che la sua devozione, più che per motivi religiosi, sia legata a motivi dinastici per esaltare gli imperatori bizantini che di San Costantino furono eredi e successori. Ora vediamo il meteo. Che tempo farà in questo lunedì 11 marzo? Lo scopriamo in questo momento, tempo instabile in particolare nelle ore pomeridiane quando sono attese piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a settentrionali, temperature in calo e mare molto mosso. E ora passiamo invece alla nostra rassegna stampa con le nostre prime pagine. Partiamo dal Corriere Adriatico che in primo piano scrive Soria il sit-in contro la variante. Siamo a Pesaro. Bretellina ed edificazioni, i residenti vogliono presentarsi oggi in consiglio quando si discuterà la proposta. L'opposizione chiede di rinviare il voto dall'Astra. Un'operazione troppo importante deve essere ripensata. E poi si parla anche di tennis. India Wells, il talento pesarese avanza. Nardi batte Zangora, tocca a Djokovic, lo vedete qui in evidenza. Poi la cronaca, Pesaro, messaggio in chat. La faccio finita, riescono però a salvarlo. Andremo a leggere di più poi a pagina 11. E poi Petriano ricece il comitato si mobilita. Giovedì tutti in provincia e a Fano invece. Addio a Minardi, il re dei costruttori piegato dalla crisi. Allora apriamo il Corriere Adriatico. Ci spostiamo subito nella sezione di Fano. Siamo a pagina 14. Addio a Minardi, il re dei costruttori. Appunto, l'abbiamo letto anche in prima pagina. Ha cambiato il volto recente di Fano. Si è spento dopo una lunga malattia. Si è ritirato dopo la crisi dell'edilizia e delle sue imprese. Si è spento dopo una lunga malattia. Vincenzo Minardi, da tutti conosciuto come Eliseo, uno dei più grandi costruttori di Fano. Colui che alla città ha dato la sua impronta edilizia recente, realizzando non senza alterne fortune, in modo particolare negli anni 90, i più vasti complessi residenziali della città. Lo trovate nel dettaglio a pagina 14. Arriva anche il messaggio dell'ex sindaco Carnaroli, che ha dato il lavoro a tanti sul piano personale. Era mite e disponibile. Lo vedete qui, l'articolo completo di Massimo Foghetti. E poi cicloturismo, la città nella rete dei nuovi marchi Bike Life. Collaborazione utile a destagionalizzare i flussi, promuovendo il territorio. Siamo sempre a pagina 14, mettere in rete i comuni marchigiani, ma anche i soggetti privati che manifestano interesse con la finalità di migliorare l'accoglienza, potenziare la commercializzazione del prodotto turistico dei rispettivi territori, puntando sul cicloturismo che rappresenta un segmento in costante espansione come terreno di elezione. Questo per quanto riguarda il cicloturismo. E poi ci spostiamo con i fatti della città. Pagina 15, piscina, bando da verificare. La giunta faccia chiarezza. Tutto il centro-destra con Serfilippi chiede una soluzione per l'avvertenza Acqua Fitness. Andiamo a leggere nel dettaglio. A pagina 15, la centro-destra affanese chiede la verifica del bando per la gestione della nuova piscina. Un affondo congiunto, sottoscritto dal candidato sindaco Luca Serfilippi, dai partiti e dai civili della coalizione, che rivolge critiche severe all'amministrazione comunale, pratica lo sport del silenzio. Andiamo a leggere in più nel dettaglio. All'ente locale è dunque rimproverata una carenza di risposte sulla questioni sollevate da un gruppo di genitori già da alcuni giorni. Temi che erano stati evidenziati da alcuni messaggi sulla pagina Facebook del gruppo la fanno che ci piace o non ci piace. Le famiglie dei giovani iscritti ad Acqua Fitness, un'associazione di avviamento al nuoto, hanno infatti dichiarato che i loro figli, sia con disabilità sia senza disabilità, non frequentano la nuova piscina se ciò dovesse comportare la rinuncia ai loro istruttori di fiducia. Tutto questo a pagina 14. E poi andiamo avanti, ci spostiamo nella sezione della Val Cesano, pagina 16. Inaugurato l'uovo di 6 metri con 7 mila rose all'uncinetto. Siamo a San Costanzo. L'opera frutto del lavoro dei volontari è nata da un'idea di Donatella Cocci. Nel dettaglio il maxiuovo di Pasqua all'uncinetto ieri mattina in piazza Pascolini si è svelato in tutta la sua bellezza. Spontaneo l'applauso delle decine di persone presenti, la stupenda creazione i cui lavori sono iniziati lo scorso settembre è stata scoperta alla presenza della vice sindaco Omar Ciani e poi del presidente della Proloco Antonio Calabrese. Chiudiamo il Corriere Adriatico, ci spostiamo invece sul resto del Carlino. Anche qui una prima pagina dedicata al tennis, la città Tifanardi, appunto tennista pesarese. Il giovane tennista sfiderà Djokovic a India Wells, il talento marchigiano sfida il numero uno. Il padre notaio ha sempre appoggiato la sua carriera sportiva. Nel dettaglio lo trovate a pagina 2. E poi punto interessante anche su Ancona. Traffico e Polo Amazon, puntiamo sui treni, allarme per il nuovo hub, rischio caos ad Ancona Nord, le proposte di Carnevali, il presidente della provincia. Andiamo però nel dettaglio, sempre a pagina 2. Partiamo però da Pesaro. Luca Nardi a volte accade a tu per tu con Djokovic, il giovanissimo tennista pesarese. Oggi in campo contro il numero uno mondiale per il talento di casa cresciuto alla Baratov e la sfida che non si aspettava. Il ritornello in questo caso potrebbe essere, sono un ragazzo fortunato, il giovane talento del tennis pesarese Luca Nardi, che in un momento difficile della sua carriera ha scoperto che essere un lucky loser è proprio bello. Quasi molto bello, visto che essendo rientrato nel tabellone di Indian Wells dopo l'eliminazione nelle qualificazioni con Golfin, è salito automaticamente al secondo turno per il ritiro di un altro tennista. Poi ha battuto il cinese Zhang, numero 50 della classifica ATP, ed oggi affronterà il numero uno del mondo, Nole Djokovic. Andiamo invece a parlare un po' di politica. A pagina 3, le elezioni amministrative, centro-destra è ufficiale. Marco Lanzi è il nostro candidato a sindaco, confermato per la prima volta dai partiti dell'opposizione, il vice commissario, oggi in pensione, quale cavallo di battaglia della loro campagna elettorale. Andiamo a leggere di più nel dettaglio. Il centro-destra ha ufficializzato, ieri per la prima volta, dopo vari articoli che lo annunciavano, chi sarà il suo candidato sindaco. La scelta di Marco Lanzi, già al lavoro da diverse settimane, rappresenta la sintesi perfetta di un progetto politico aperto alla città. I partiti in questi mesi hanno lavorato per costruire un'alleanza che allargasse il perimetro dalla coalizione, piuttosto che una scelta che guardasse ai propri interessi, alla valorizzazione dei propri dirigenti. Il dibattito sul dopo Ricci, scrivono Serena Boresta, i fratelli d'Italia, e Gianmarco Cecconi di Forza Italia, che appunto si soffermano su quello che sarà il dopo Ricci. E poi uno sguardo anche al PD, perché si commenta, il PD è passato dalla partecipazione alla spartizione tra correnti interne fatte in una stanza. Un segnale evidente che alla segreteria del partito interessa molto di più gli equilibri tra i capi correnti rispetto agli interessi della città. Questo ovviamente il virgolettato che trovate a pagina 3. E poi ancora su Pesaro, in quell'incrocio di Soria ci verrà un pezzo di sei piani e altre case. Il consigliere Giovanni Dallastra svela il contenuto pratico della variante di Soria che oggi verrà adottata dal Consiglio Comunale. Ci sarà la suddivisione di un unico comparto già previsto nel PRG in quattro comparti indipendenti con capacità edificabile variabile. Dove ora si trova l'ex Suzuki, si potrà realizzare un palazzo di sei piani e di circa 3.500 metri quadri. Dall'altra parte, dalla statale, nell'area dell'attuale distributore di carburanti, potrebbero costruire invece un palazzo a cinque piani nell'area verde. E poi invece una bella notizia, sempre a pagina 3, l'Orchestra Olimpia di Pesaro in concerto nelle sale del Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella ha assistito all'esibizione del gruppo musicale femminile dopo la performance alla Vitri Frigo Arena. Lo ricordiamo nel giorno ufficiale dell'apertura della Capitale Italiana della Cultura, in un sabato di successo a Pesaro, anche con la conduzione di Paolo Bonolis. L'Orchestra Olimpia, questa volta, fa tappa nelle sale del Quirinale. Una grandissima emozione, si legge qui a pagina 3, così raccontano le musiciste di Orchestra Olimpia, dopo essersi esibite ieri mattina in concerto alla Cappella Paolina del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'invito a esibirsi in concerto al Quirinale era arrivato dall'Orchestra Olimpia dopo l'esibizione, nel corso della cerimonia, appunto, l'abbiamo detto prima, nel corso dell'esibizione della cerimonia inaugurale di Pesaro, Capitale della Cultura, 2024, tenutasi lo scorso 20 gennaio, alla Vitri Frigo Arena. Andiamo avanti, si parla anche qui del mega uovo di Pasqua di San Costanzo, ci hanno lavorato 37 donne del posto e dei paesi vicini che hanno l'antica passione dell'uncinetto. L'opera che è alta non meno di 6 metri e pesa circa 4 quintali è stata posizionata in piazza a San Costanzo. C'è tanta soddisfazione per questa piccola grande struttura. E poi anche qui si parla un attimo di Fano, siamo sempre a pagina 5, i fatti della città tornano anche sul resto del Carlino. La Lega attacca sulla piscina troppi esclusi dall'uso e la Giunta si disinteressa. Sir Filippi, candidato a sindaco, chiede una riunione. Chiediamo all'amministrazione comunale di convocare un tavolo di confronto per individuare la miglior soluzione per superare le divisioni che si sono create all'interno del mondo sportivo. Sulla polemica che ha investito la nuova piscina realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano con un investimento di 7 milioni e mezzo di euro e data in uso frutto gratuito per 30 anni al Comune interviene il candidato sindaco del centrodestra, Luca Sir Filippi e la coalizione Perfano che lo sostiene. Questa amministrazione, scrive e commenta Sir Filippi, pratica lo sport del silenzio e come sempre accaduto in questi anni ha deciso di non decidere. È inaccettabile che gli amministratori siano stati più impegnati nel fare tuffi e selfie a Bordovasca piuttosto che intervenire per verificare che nessuno restasse escluso. Chiediamo di accertare se il bando di gestione sia stato realizzato con i giusti criteri e comunque con una ulteriore verifica si chiarisca la vicenda nel più breve tempo possibile. E poi la cronaca, torniamo a Pesaro, vuole farla finita e lo scrive su Facebook, alla fine è salvato, aveva scritto su Facebook che si sarebbe ucciso gettandosi nel porto, erano le 21.20 dell'altra sera, la volante di polizia si è messa alla ricerca di un quarantenne di Pesaro cercandolo subito in zona porto ma senza trovarlo per poi andare a casa dove la madre però non lo aveva visto e quindi dalla sua fidanzata che però era ricoverata in ospedale. Per cui la ricerca è continuata in maniera continua in zona porto dove intorno alle 22.30 è stato visto camminare in stato confusionale vicinissimo agli scogli del piazzale del ristorante La Vela. Qui è stato poi bloccato dagli agenti e portato in ospedale per le cure appropriate. Torniamo un attimo sul Corriere Adriatico nella sezione Pesaro perché ritornano anche qui i fatti dedicati all'amministrazione comunale a pagina 9 Sito a rischio, fermate la procedura esposto contro l'ospedale a Muraglia l'ex vice sindaco Musconi scrive a Procura, Corte dei Conti, Ministeri dell'Unione Europea criticità idrogeologiche ignorate si parla appunto del nuovo ospedale di Muraglia quello che sorgerà appunto a Pesaro ne abbiamo parlato ampiamente anche nel corso degli scorsi mesi nel nostro telegiornale paventa un danno plurimo ambientale e sanitario ha presentato un esposto a tutte le istituzioni potenzialmente interessate a partire dalla magistratura penale e contabile l'ex presidente dell'USL3 ed ex vice sindaco di Pesaro Mauro Mosconi si è rivolto anche a Ursula von der Leyen presidente della Commissione Europea politico e socialista di lungo corso anche alle spalle quattro elezioni nel Consiglio Comunale di Pesaro ha deciso di combattere una battaglia della vita contro il nuovo ospedale di Muraglia i cui lavori dovrebbero iniziare entro l'anno secondo l'impegno della regione laddove pulsa una città della salute che nel frattempo dovrà essere sgomberata da gran parte dei servizi ospedalieri e sanitari con uno straordinario sforzo logistico e finanziario quindi qui si parla appunto dell'appello di Mosconi in merito al nuovo ospedale che sorgerà a Muraglia andiamo avanti perché anche qui si torna a parlare si torna a parlare di politica anche il Corriere Adriatico parla delle elezioni amministrative l'anzi al lavoro da settimane mentre il PD litiga sul nome frecciate dal centrosinistra ai democratici alla vigilia di una settimana cruciale per il totosindaco il frecciate appunto del centrodestra ai Dem Pesaro verso il voto le prossime elezioni amministrative l'ufficializzazione di Marco Lanzi a candidato sindaco del centrodestra è ormai questione di ore e la coalizione ne approfitta per mandare frecciate al PD che al contrario temporeggia non scioglie il nodo per quanto riguarda il nome e si ritrova con diverse divisioni sulle correnti interne e poi ancora Pesaro ripensiamo a verde viabilità e parcheggi l'intervista a Belloni per quanto riguarda lo sviluppo di Pesaro l'assessore Belloni ha lavoro per la sua lista una città in comune l'intervista la trovate a pagina 10 e poi una notizia di interesse per la cittadinanza volontariato per il servizio civile al via la selezione del volontario di servizio civile che sarà assegnato al servizio manutenzione e viabilità dove collaborerà alla realizzazione di un progetto di mobilità sostenibile e riqualificazione urbana i candidati sosterranno un colloquio in presenza di una commissione istituita dall'amministrazione comunale e composta da selezionati accreditati ANCI i colloqui si svolgeranno il 18 marzo a partire dalle ore 9 presso la sala riunioni del quarto piano del palazzo comunale questo per quanto riguarda eravamo tornati un attimo sul Corriere Adriatico per quanto riguarda Pesaro ci spostiamo prima di chiudere la nostra rassegna stampa e parliamo di sport siamo sul Corriere Adriatico VIS sfuma la rimonta i pesaresi perdono di misura in casa dell'Arezzo rimanendo impantanati in una piena zona play-out Nicastro aveva ridato Speranza dopo il doppio vantaggio toscano ma il pareggio non è arrivato vedete qui il tabellino Arezzo 2 VIS PESARO 1 e poi le interviste brevemente per il dopo partita serve più aggressività l'allenatore della VIS Banchieri ha analizzato la sconfitta dei suoi per 2 a 1 sul campo dell'Arezzo ci siamo svegliati dopo il 2 a 0 dove ci siamo svegliati dopo il 2 a 0 dovevamo farlo prima abbiamo avuto la chance per pareggiare e poi ci sono anche le pagelle invece ci parla anche di di Fano l'Aquila vola in alto il Fano resta a terra siamo a pagina 12 sempre ci spostiamo in questo caso sul resto del Carlino l'Aquila batte il Fano per 2 a 0 ma non gli commenta male l'approccio e poi siamo cresciuti e poi sul resto del Carlino si torna a parlare di VIS PESARO VIS si fa dura due sberle poi rimonta sfiorata anche qui appunto si parla della partita andata in scena ieri nel pomeriggio Banchieri l'allenatore della VIS PESARO all'inizio ci è mancato un po' di coraggio e poi insomma ci sono anche le pagelle questo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa in questo lunedì 11 marzo prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti di oggi perché alle 18 torneremo in diretta con Primo Cittadino con Simona Zonghetti sarà il nostro ospite il sindaco di Pergola Simona Guidarelli e poi a seguire invece dalle 20 e 30 il nostro telegiornale occhio alla notizia con tutte le notizie di giornata sono le 7 e 20 circa termina qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona giornata con la rassegna stampa